Adesso parliamo del funzionamento. Allora, spesso avrete sentito parlare o vi avranno detto di alto funzionamento e basso funzionamento. Questa è un'etichetta che in realtà sta perdendo la sua valenza. Cercherò di spiegarvi perché anch'io non sono felicissima di queste etichette, sebbene le usano costantemente anche i miei terapisti. Allora, alto funzionamento identifica una persona che comunque ha un quoziente intellettivo nella norma. Altissimo funzionamento, addirittura più alto della norma. Un basso funzionamento è al di sotto dei valori della norma. Per identificare questo quoziente intellettivo vengono fatti dei test. Ora, capite che il test è una fotografia in quel momento di quella persona, ma non può identificarvi una persona. E di sicuro non si può identificare una persona come se sei un alto funzionamento sei Einstein e se sei un basso funzionamento non c'è più niente da fare. Perché più o meno è quello che mi sento dire spesso. Assolutamente non è così. Quindi, considerando che l'autismo è proprio caratterizzato da una disomogeneità di competenze, che può essere veramente estrema, in più esistono delle comorbidità, far fare dei quiz a delle persone e pensare di identificarle e caratterizzarle in questo modo è veramente terrificante. Se sei un alto funzionamento, quindi hai un QI della norma, non vuol dire che va tutto bene, d'accordo? Come non vuol dire che se hai un basso funzionamento, allora sei una causa persa. Mettetevela via, togliete il funzionamento, mettetelo da parte e cominciate a focalizzarvi su quella persona in particolare. Potete essere voi, può essere vostro figlio, può essere qualcuno che amate, un vostro studente. Pensate solo alle sue abilità, a potenziarle, a trovare le strategie, a insegnare come utilizzare le strategie, come utilizzare diverse modalità di comportamento. Insegnate a queste persone a credere in loro stessi, credete in voi stessi, migliorate la vostra vita, siate felici di quello che riuscite a fare e puntate degli obiettivi giorno dopo giorno. Piccoli obiettivi che diventano grandi obiettivi. Non mollate, non abbattetevi se non funziona, troverete delle altre strategie. Ma non abbandonate i vostri sogni e le vostre speranze per una etichetta data da qualcuno in un determinato momento. voi non siete un'etichetta, i vostri figli non sono quell'etichetta. Mi raccomando, combattetele sempre e a runnersi mai.